Eh, tambien, tambien La gravata Alfano non c'è E' la prima ripresa Mi piace questo tempo E' la prima ripresa 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 Vai vai in testo, mistero! Guardate! Vai, mistero! Bella brava, sì! Vai, mistero! Prope, all'estero! Vai, vai, vai! Vai, mistero! Vai, mistero! Vai, mistero! Vai, mistero! Vai, mistero! Non sta abbassando così, eh? Non rischiare mai niente! Vai, mistero! Vai, mistero! È morto! Toc'è! Bravo, Mirko! Visto! 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 Grazie a tutti! Visto! 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 Ero! Visto! 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 l'incontro vince per K.O. Tecnico a 2 minuti e 59 secondi della terza ripresa Mirko Colaceci è accompagnato all'angolo dal maestro Massimo Nardiello per il team decremente da Lanciano Chieti residente alla Cilia Fabrizio Trocca contro di lui all'angolo rosso al peso di 60 kg e 600 in pantaloncini oro neri e con un racco da professionista formato da 12 incontri disputati 11 vittorie per lui, 3 delle quali per K.O. ed un pari già campione d'Italia dei pesi Super Piuma è accompagnato all'angolo da Franco Federici e Franco Zombrillo per la BBT Production da Roma Super Mario Alpano grazie a tutti non possiamo stare qua attenzione Notte guardhè Buonasera, Mestro. 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 Buonasera, Mestro.